ciao allora oggi recensione di questo blush che devo dire finalmente ho finito questa era una vecchia edizione il blush della beach chrysers dell'essence questo e ve l'ho fatto vedere quando l'ho acquistato e comunque sia qui vi metto il link dove l'ho acquistato così c'è anche il prezzo ok è l'edizione dell'anno scorso e ci ho messo un anno a finirla eppure la usavo tutti i giorni e non sbagliavo un giorno quindi la durata sicuramente buona per il prodotto questo contiene 6,8 grammi questa era la summer break ed era bellino il colore perché partiva dal più scuro alla più chiaro al più scuro comunque la più scura al più chiaro perché dico finalmente perché a metto quando in estate volevo un attimo di colore e dico sì ok carino carino il colore più chiaro per finire gli altri è stata una cosa tremenda io non volevo assolutamente buttare il prodotto a consumare gli altri erano davvero troppo scuri per qualunque candagione a meno che non volevi fare Heidi o qualunque altre cose rossa no non mi è piaciuto assolutamente non mi è piaciuto e credo che si vede ancora un po' qua vedete che è davvero scuro scurissimo proprio scuro vabbè che io sono chiara ma questo era proprio scurissimo per qualunque che ha ragione a mio parere ma non volevo consumare il prodotto e quindi l'ho mescolato un pochino con degli illuminanti perché l'attimo le desse più colore invece di applicarlo con il pennello perché faceva una striata troppo di colore lo prolevo con la spugnetta così ne prendevo un po' meno bolo finito basta credo che io non resterò ai miei blush ne prendo spesso li cambio spesso ne provo sempre dei nuovi mi piace un po' di colore ma questo davvero era troppo troppo esagerato quindi no non mi è piaciuto né per l'estate né per l'inverno né per qualunque stagione no assolutamente fatemi sapere se voi a vostro tempo l'avevate provato e come l'avevate trovato peccati i prodotti mi hanno piaciuti molti amici della Beach Chrysler della Essence quindi spero vi è stata utile e fatemi sapere se vi è stata utile se vi è interessata ma che chiusura è questo non lo so vi è stata utile al prossimo video ciao ciao